bene bene amici bentornati in questo nuovo video sede compagnia di toni amsic 17 e oggi raga andiamo a fare una partita su rainbow allora siamo in classificata adesso va bene scegliamo un attimino il posto dove cercare di difendere se scegliamo il nostro mitico operatore come potete vedere siamo tornati a bomba su rainbow ho visto che ultimamente purtroppo ci sono poche pochi attivi però raga io continuerò nel sul mio canale anche perché mi piace portare video editarli renderizzarli e registrarli soprattutto ok adesso qua vediamo un po di filo spinato comunque raga sto tornando veramente sto riprendendo di nuovo la mano su questo gameplay perché veramente a me rainbow mi fa impazzire da matti veramente è uno dei miei giochi preferiti anche perché sinceramente a fortnite non ci sto più giocando veramente saranno due mesi che non accende più fortnite mi sono ributtato sul rainbow sto cercando di migliorare di riprendere di nuovo la mano di prima e sembra che piano piano ci stia riuscendo ovvio devo giocare più spesso mi devo allenare tutti i giorni quando posso quando riesco quando non sono a lavorare mi collego e faccio qualche partita su rainbow adesso qua ci vuole un po di concentrazione raga perché purtroppo faccio tanti montage con rainbow perché salvo la clip metto la musica è molto attenzione aspetta 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 fatto fatto ok fatto perfetto scusate raga aspetta un po c'è qualcun altro no 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 ti provo no 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 non ci credo ragazzi no non ci voglio credere cosa ho fatto ma ha tirato la flashback è stato magari anche un colpo di culo eh però ragazzi no vabbè questa kill veramente eccolo eccolo no madonna mia grandissimo ok no vabbè c'ho 27 di vita cazzo no vabbè ma che kill l'ho fatto non riesco ancora a crederci mi sa che non c'è più nessuno ma sai no ah grandi 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 beh ragazzi come primo round 3 kill buono buono ma quella di blackbeard ragazzi è qualcosa di spettacolare quella kill lì è fortuna ma io sapevo perché mi ha tirato la flashback mi ha tirato la flashback e sapevo che entrava perché se mi tiene una flashback vuol dire che stai facendo irruzione quindi ho detto io sparo perché sicuramente mi viene a colpire lui sa dove sono io non so dov'è ho sparato a caso e l'ho preso è stata anche molta intuizione lì eh anche fortuna ma molta intuizione l'ho giocata bene 5 secondi all'inserimento oh niente raga non riesco a trovare sta benedetta bomba vabbè dai partiamo proviamo a vediamo proviamo a dronare ancora se iniziamo a trovarla ok è stata individuata nel mio compagno sono sotto sono sotto va bene va bene va bene dai toni va benissimo dai ok andiamo avanti ok allora abbiamo i bana twitch qua ok spostati bilan spostati il disinnescatore è stato recuperato occhio c4 c4 ok proviamo a passare da sopra vai dai rompi oh ma che cazzo fai il mio compagno ma cos'è fuori oh eh scusa come stai Ash no 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 levati Ash levati hai trovato la bomba eh come faccio no 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 il caricatore no 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 allora 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 miriamo miriamo e sparita lo prendo lo prendo lo ho preso lo ho preso che kill che kill ragazzi non ci voglio credere non mi rado vabbè straordinario straordinaria sta kill oltretutto la palla il round vincente l'ho fatta bellissima veramente bellissima questa è quella di blackbeard sono le due kill più belle finora sul 2 a 0 prendo capcan difendiamo alla grande abbiamo un tachank abbiamo un dock un castle un rock si va bene dai siamo molto 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 difensivi proteggete le bombe è che ragazzi capca va bene per tipo camperare stare nell'obiettivo perché è veramente lento non puoi non puoi fare sconchi non puoi uscire fuori posizione bomba compromessa regolarsi di conseguenza ma le chiamo qua allora le trappole le voglio mettere dopo le voglio mettere dopo perché sennò il drone me le vede le metto una qua occhio 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 no 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 via 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 che c'è Ibana sicuro sta spaccando Ibana da qualche parte sicuro Ibana fermi fermi che sennò ci individuano dai fermo lì dopo oppa fatto ho fatto ok stanno rompendo stanno rompendo da un'altra parte stanno rompendo da un'altra parte non so dove vai dietro vai dietro copri dietro cazzo non mi posso sentire sto coglione no 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 mi fanno stavolta ma è andata bene la rob l'ha fatto ora si va nuovo caricatore niente eccolo eccolo minchia con ste flash di merda uno uno l'ho fatto saltare con la trappola raga uno l'ho fatto saltare con la trappola ultimo nemico rimasto ok ok andiamo a prendere no 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 ma con doc no 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 sbagliato lasciala subito ti hanno scoperto ci provo ci provo raga dov'è no dov'è no 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 ma con cap 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 perché troppo lento lo sapevo guarda che cazzata che ho fatto ho fatto due round stupendi, meravigliosi e mi sono perso qua pensa a te ma pensa, mi ha fatto Ivana beh abbiamo il match point allora vediamo che peccato mamma mia, ho fatto due round bellissimi con 5 kill e mi sono andato a buttare fuori con Kapkan, che l'ho detto prima l'ho detto prima con Kapkan non esco perché è lento cosa ho fatto, ho visto che mancava solo una d'accanto e mi ha fatto vabbè ho scelto Twitch allora loro sono sopra allora quanto abbiamo l'X l'X se vai avanti te no vai avanti te coprimi io ti guardo da dietro se non vai avanti ma lo stesso di prima di atia lo stesso che mi ha fatto prima non ci voglio credere ma perché ma perché ma perché stavo facendo una gran partita potevo finire in bellezza ma non ci voglio credere ragazzi ma no no non è possibile morire così no vabbè è andata bene il round vinto vabbè qui 5 kill raga non è male non è male dai piano piano ho detto ci sto riprendendo la mano vittoria perfetta 4 a 0 e va benissimo raga se vi è piaciuto questo video mi raccomando lasciate un bel like iscrivetevi al canale e niente raga se poi volete fare qualche partita come anche su rainbow scrivetemi in privato anche sul psn e niente raga dal vostro tony amsik 17 un saluto un abbraccio e ci vediamo al prossimo video su rainbow bella tutti raga qui iscrivetevi al canale il che non mi fai le d'idea obacca fiolletta fiolletta maia c'è il 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 Grazie.